Sono emozionato, sono emozionato perché è un momento importante della mia carriera, vengo qui con grande entusiasmo e sono trovato in una società per ora, per impressione, molto ambiziosa, che sa quello che vuole e quindi sono contento di essere qua. Che tipo di giocatore è Nicolò Brighenti? Non lo so, non aspetta a me dirlo, spero di poterlo dimostrare subito in campo, è un giocatore che non molla mai, nel senso che dà tutto e cerca sempre di fare il massimo per la propria squadra. Diciamo che io sono un difensore centrale nella difesa 4, però ho ricoperto tutti i ruoli, terzino, destro, sinistro, nella difesa 3, anche l'ho fatta per tanti anni a Frosinone, quindi diciamo che difensivamente ho giocato un po' dappertutto. Conosci già Pietro Iemmello, vi siete sentiti? Sì, come no, lui è stato addirittura il primo forse a contattarmi per sapere se mi sarebbe piaciuto venire qui e sarà sicuramente un punto di riferimento perché ci conosciamo molto bene. È la prima volta nel girone C di Liga Pro che è campionato di aspetti? Beh, bene o male ho tanti amici, tanti compagni che l'hanno fatto e che mi hanno parlato di questo girone, sicuramente un girone tosto dove ogni partita sarà difficile, però allo stesso tempo è anche molto stimolante perché ci aspetta un campionato davvero avvincente. Niente che ho grande entusiasmo, non vedo l'ora di scendere in campo e di cominciare questa nuova stagione. Grazie. 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 Grazie.